un altro omicidio nelle marche trentenne accoltellato a sant'elpidio mare si getta dalle mura di bombaroccio muore 44enne pesarese ritrovato ordigno bellico a case bruciate intervengono gli artificieri contrasto al caro bollette vale foglia pronta a dimezzare a cagli una mostra per celebrare luca federico e giovanni santi ben ritrovati al nostro telegiornale oggi è martedì 18 ottobre apriamo quest'edizione con una notizia che ci porta oltre i confini della provincia di pesaro urbino perché ad una settimana dall'omicidio di osimo in cui è stata uccisa la 41enne Ilaria Maiorano ed arrestato il marito taric elga dassi un altro fatto di sangue turba la regione marche questa notte a sant'elpidio mare ha perso la vita un trentenne di origine indiana il ragazzo sarebbe stato accoltellato mortalmente all'addome al termine di una lite degenerata tra connazionali lite in cui anche un sessantenne ha rimediato gravi ferite da arma da taglio ed è stato subito operato all'ospedale di civitanova indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l'accaduto dal territorio di civitanova passiamo a quello di monbaroccio dove ieri pomeriggio una donna di 44 anni è morta gettandosi dal torione del borgo camilla ragni pesarese residente a novilara è stata soccorsa dal personale del 118 allertato tempestivamente dai cittadini del paese che hanno assistito alla scena la donna non è morta sul colpo ma il suo cuore ha cessato di battere in ospedale poche ore dopo sulla tarda mattinata di oggi a poche centinaia di metri dal casello autostradale di pesaro alcuni lavori al manto stradale hanno fatto emergere dal terreno la presenza di un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale allora vediamo il servizio un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale questo è quanto è stato rilevato questa mattina a fianco di strada montefeltro all'altezza di case bruciate di fronte al locale pepe sale durante i lavori di ampliamento stradale presenti nella zona gli operatori impegnati una volta accorti dalla presenza dell'esplosivo hanno subito allertato le forze dell'ordine che sono intervenute con una pattuglia di polizia e una squadra di artificieri dell'esercito proveniente da bologna arrivati sul posto i militari hanno confermato che si trattava di un ordigno e una volta messa in sicurezza l'intera area hanno proceduto con il risotterramento in accordo con la prefettura saranno attivate tutte le procedure del caso che nell'arco di settimane prevederà la rimozione dell'ordigno ed eventuale brillamento le operazioni condotte tra tarda mattinata e primo pomeriggio hanno causato qualche rallentamento di traffico provocato anche dai diversi curiosi che si sono fermati a debita distanza ad osservare l'intervento delle forze dell'ordine E rimanendo in tema di autostrada ieri sera è andato a fuoco un autocarro nell'A14 nel territorio di Pesaro incendio che già ieri vi abbiamo mostrato attraverso i nostri canali social grazie al video inviatoci da un nostro telespettatore che chiaramente ringraziamo attorno alle 20 sono infatti intervenuti i vigili del fuoco per sedare il rogo divampato su un tir che trasportava materiali deperibili il rogo sarebbe scaturito dall'interno del camion per cause in via di accertamento i vigili del fuoco hanno spento le fiamme utilizzando tre autobotti non ci sono state persone coinvolte ma il tratto autostradale è rimasto chiuso alcune ore per la messa in sicurezza della zona altro incendio alle 11 30 di questa mattina a gabice mare all'interno della mansarda di un'abitazione in via cesare battisti i vigili del fuoco di pesaro assieme a quelli di cattolica hanno spento tempestivamente il rogo anche in questo caso non si segnalano persone coinvolte ma la mansarda risulta del tutto inagibile ed ora cambiamo argomento comuni ed enti pubblici a caccia di strategie di risparmio energetico per affrontare il caro bollette di questo autunno inverno è il caso di valle foglia motivata a costruire un piano strategico per dimezzare i consumi occorre ottenere un risparmio delle spese pubbliche del 50 per cento con queste parole il sindaco di valle foglia occhiali chiude la riunione della giunta comunale della scorsa settimana convocata per fronteggiare la crisi energetica che sta colpendo anche il suo territorio avevamo già avuto un risparmio con la sostituzione tutte le vecchie lampade a led già al 90 per cento già fatto questa questa operazione e l'altro 10 per cento in corso di armonizzazione delle lampade un po' erano bianche di tutto il territorio perché erano due comuni e con un risparmio di circa il 20 per cento adesso si tratta di vedere se spegnere un palo sì in palo no se tecnicamente bisogna vedere con la consip attraverso la quale noi abbiamo affidato la gestione e com'è possibile tecnicamente per come obiettivo risparmiare al 50 per cento il quale 50 per cento vuol dire ecco contenere la spesa e non andare in disavanzo perché questo è il punto perché supponiamo che lo stato non metta i soldi noi dovremmo comunque far fronte per avere i conti in ordine per evitare di togliere i servizi dei cittadini o aumentare le tariffe perché lo stato dice vabbè dovete fare il pareggio se non riuscite a fare il pareggio aumentate le tariffe di questi tempi sarebbe una botta mortale ai cittadini e alle imprese l'aumento scriteriato delle bollette di luce e gas non guarda in faccia nessuno e il sindaco cucchielli sostiene l'importanza di una serie di interventi che il nuovo governo regione province e comuni dovranno prestarsi a fare per evitare ulteriori peggioramenti è assurdo incomprensibile come i potenti oligarchi della terra abbiano fatto prima scomparire tutte le materie prime e poi aumentare il 30 40 per cento mettendo in difficoltà le famiglie in maniera anche drammatica in molti casi le imprese con rischio anche di licenziamento e le pubbliche amministrazioni perché il 30 40 per cento 20 per cento in più di spesa di cose non preventivate nel bilancio dove prendiamo i soldi è una bella bella interrogativo quindi è una situazione insostimibile in più in un'epoca in cui c'è c'è stata e c'è una grande attenzione dell'Europa sull'Italia tutti i fondi del PNRR e rischiano di rimanere sulla carta perché noi abbiamo chiesto 5 milioni sulla rigenerazione urbana 2 milioni e mezzo per portare il pala Dionisi a 8 metri a 1500 posti per far giocare la serie A femminile al pala Dionisi a Montecchio di Vallefoglia e 900 mila euro per le mura castellane se dovessero come speriamo ci auguriamo essere finanziate queste opere per appaltarle ci vuole il 30 per cento in più cioè vuol dire che ci vuole altri 600 mila euro e se non li mette lo Stato vuol dire che non si appaltano le opere pubbliche spero che il nuovo governo che si insedierà a giorni trovi le risorse così come è avvenuto per il covid con il governo Draghi per ristorare i cittadini e le imprese e gli enti locali comuni e province anche da parte della regione per far sì che si possa ovviare a queste difficoltà se no veramente saremmo in una paralisi Si ampliano e si potenziano i servizi delle farmacie comunali sul territorio provinciale questo è il caso di Gabice Mare dove è stato tagliato il nastro ad un nuovo servizio E' un risultato importante, una giornata importante perché si va ad accrescere un presidio molto importante per la nostra città e per il nostro territorio e la scelta fatta a gennaio 2020 di affidare la gestione ad Aspes è risultata sicuramente subito una scelta ottimale e vincente perché ci ha permesso intanto di affrontare immediatamente la pandemia che ci ha purtroppo accompagnato soprattutto per il 2020 ma anche nel 2021 E oggi più che mai si sente la necessità di avere una sanità presente sul territorio perché a volte si parla semplicemente si fanno parole, chiacchiere sulla sanità del territorio però poi mancano i risultati, le azioni e le azioni Questa è un'azione concreta perché ci permette di avere intanto una sede più efficiente anche tecnologicamente molto avanzata e soprattutto poi si è creato un vero e proprio distretto punto della salute del territorio perché avremo sia sul lato destro che sul lato sinistro dei poliambulatori dove ci saranno da una parte i medici di medicina generale e un pediatra di base e dall'altra parte degli ambulatori specialistici quindi cerchiamo di dare con le nostre forze, con le possibilità e con i compiti che abbiamo di dare delle risposte concrete ai cittadini in un momento in cui assistiamo purtroppo a un depauperamento della sanità a livello territoriale, rammento la chiusura della guardia medica dal 1 novembre 2021 questo è ovvio che implica un'inefficienza perché i cittadini sono costretti ad affollare e a rivolgersi a pronto soccorso di Pesaro quando potrebbe essere fondamentale avere una guardia medica attiva sul territorio come l'ho sempre stata capisco che c'è cadenza di medici però forse è l'ora di passare ai fatti oggi noi abbiamo voluto dare una risposta anche in questo senso andando ad inaugurare uno spazio più funzionale con nuovi servizi che possano accrescere e dare fiducia alla cittadinanza in tema di tutela della sanità da quando il gruppo Aspes ha preso in gestione la farmacia comunale già di molto sono aumentati i servizi soprattutto dal punto di vista orario, abbiamo allungato sia gli orari che le giornate di apertura con lo spostamento a fianco dei locali della vecchia farmacia la volontà che abbiamo e l'indirizzo che in qualche modo ci siamo imposti anche con l'amministrazione comunale è proprio quello di aumentare ulteriormente i servizi per l'utenza di Gabice Mare per i cittadini di Gabice Mare e anche per i turisti andando incontro a tutte quelle che sono una nuova concessione insomma con la farmacia dei servizi e i servizi che vengono dati all'interno crediamo di esserci riusciti, i locali sono molto belli e accoglienti rafforzeremo anche a fianco della farmacia il poliambulatorio arriveranno anche degli specialisti quindi cercheremo di unire la farmacia come primo punto di riferimento di base del servizio sanitario con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e anche gli specialisti proprio per dare un servizio migliore alla cittadinanza di Gabice e ai turisti da Gabice Mare ci spostiamo a Fano dove sono state premiate una dozzina di realtà locali che favoriscono la promozione del territorio dalla pasta al vino, dai profumi ai gadget vediamo di che si tratta in questo servizio realizzato da Simone Celli l'olfatto per i profumi, il tatto per i gadget, la vista per ammirare il paesaggio ma soprattutto il gusto per assaporare l'essenza stessa del territorio la vacanza è prima di tutto un'esperienza sensoriale e la promozione turistica non può che partire da qui lo sanno bene Confcommercio e alberghi consorziati che nei giorni scorsi nella sede dell'Agnuco Promo di Fano hanno premiato diverse realtà locali che attraverso le loro produzioni e iniziative tengono alto il nome della città della fortuna e del suo immediato entroterra Questo è il secondo anno che abbiamo lanciato questi prodotti di eccellenza che sono quelli che veramente hanno assaggiato i nostri turisti che erano in vacanza a Fano però non solo Fano ma abbiamo toccato anche l'entroterra tipo il vino di terra cruda, l'olio di cartoceto e con questa iniziativa portiamo qualcosa di importante alle aziende che fanno dei grossi investimenti Dal cibo alle bevande tipiche passando per il merchandising Tra tradizione e innovazione l'importante è fornire al turista un'esperienza immersiva sul posto ma anche un ricordo tangibile che una volta tornato a casa rievochi in lui il tempo trascorso nelle nostre zone I prodotti sono la pasta, l'olio, i profumi, i liquori non tutto segue il discorso enogastronomia ma anche iniziative tipo dei gadget su Fano e per noi è veramente stato un ottimo risultato Come Conf Commercio siamo particolarmente orgogliosi di sostenere chiaramente in questo momento così difficile della realtà così strutturata del nostro territorio perché con orgoglio e con professionalità hanno creato delle eccellenze Eccellenze che chiaramente diventano come attività sia protagonisti che promotrici della nostra tradizione nonché innovazione e che creano appunto quel binomio di identità se vogliamo di unicità proprio del nostro territorio e della nostra città È proprio la capacità di far conoscere le caratteristiche intrinseche del nostro territorio il grande merito delle aziende, dei professionisti e delle associazioni locali premiate a Fano In primo piano la specificità di un distretto turistico come il nostro che parte dal mare e arriva fino in collina con i suoi valori, sapori e prodotti da mettere in rete e su cui fondare delle mirate strategie di promozione È chiaro che queste attività, queste eccellenze così importanti creano appunto quel marketing territoriale che per noi è fondamentale perché dobbiamo far conoscere il nostro territorio, la nostra città a livello diciamo sia nazionale che internazionale se vogliamo e quindi diventa una vera e propria vetrina dove possiamo così attrarre sia a livello turistico che a livello commerciale quindi noi crediamo proprio nella valorizzazione di tutte le nostre eccellenze per poter attrarre così ancora più investitori che possano arrivare nella nostra città per creare poi quel circolo, quell'economia circolare che possa portare più ricchezza e possa portare più lavoro nella nostra città quindi crediamo che bisogna veramente investire a livello turistico e commerciale per portare appunto chiunque voglia arrivare per sostenere veramente la nostra città Ed ora ci occupiamo di un'azienda che può rappresentare un'opportunità lavorativa per tanti giovani fornendo servizi innovativi per ristorazione e ricettività alberghiera parliamo di Servipan, azienda con sedia Pesaro e Fano che ha avuto un'importante vetrina alla fiera del turismo TTG tenutasi proprio nei giorni scorsi a Rimini Fra i tanti servizi proposti al TTG di Rimini c'è quello offerto da un'azienda fanese, pesarese con sede amministrativa e legale nelle due città, nelle due città principali della nostra provincia si tratta di Servipan, è una modalità nuova di proporre servizi alle strutture turistiche si occupano di reclutamento del personale per ogni necessità Il nostro oggetto del desiderio è la risorsa umana per cui noi gestiamo circa 36.000 curricula all'anno facciamo recruiting, quindi reclutamento H24 e soprattutto poi facciamo selezione delle risorse poi facciamo tanta tanta formazione perché c'è bisogno di specializzare e di creare cultura dell'ospitalità Il punto di forza direi è proprio quello della parte più legata all'aspetto risorse umane quindi noi ci occupiamo e ci preoccupiamo di garantire un servizio legato alla ricerca del personale alla formazione dello stesso e all'inserimento quindi alla contrattualizzazione quindi siamo noi stessi che poi assumiamo il personale che viene inserito nelle singole strutture Siamo operativi ormai come Servipan da due anni ma parallelamente noi lavoriamo poi facciamo parte di un'unica azienda perché ci occupiamo anche di intrattenimento quindi è un'azienda che ha uno zoccolo di 30 anni più o meno noi siamo come sede, cioè come sede abbiamo Fano quindi siamo nelle Marche ma operiamo in tutto il territorio italiano comprese le isole Quello che pensiamo noi è che nel settore alberghiero sia mancato in tanti anni una fidelizzazione del personale soprattutto spiegare a questi ragazzi che si affacciano nel mondo degli alberghi dalla ristorazione all'house keeping di avere un futuro quindi come possiamo dire a questi ragazzi vi promettiamo un futuro formandoli per insegnargli un lavoro per non farli venire unicamente in stagione per fare quattro mesi di lavoro e poi andare a cercare altro noi vogliamo dirgli una cosa diversa vogliamo dirgli venite da noi perché vi promettiamo un futuro un lavoro e una formazione quindi fidelizzarli oltre che con dei corsi di academy dove li andiamo a preparare ad affrontare in modo professionale il lavoro che andranno a svolgere e farli lavorare per tutto quanto l'anno quindi se l'estate li facciamo lavorare al mare o in montagna d'inverno li andremo a collocare comunque in dei business hotel o in nostre mete che lavoreranno nel periodo invernale Oggi siete qui in Fiera Rimini al TTG per presentare anche un progetto innovativo legato alla cucina circolare di cosa si tratta esattamente? è una tematica molto importante, già da qualche anno se ne parla ancora più importante quest'anno andarla a trattare per non sprecare nulla di quello che produciamo in cucina e allo stesso tempo presentare un prodotto di qualità Oggi il nostro chef Tiziano Rossetti, che è una stella Michelin ci andrà a spiegare che cosa fa per non sprecare il cibo che ci avanza in cucina e andarlo a presentare in modo ottimale Ho presentato un tramezzino con i cereali utilizzando il bollito perché ridiamo nobiltà a questa carne, il bollito e ho utilizzato per evitare sprechi le foglie di sedano, le verdure del bollito, la carne del bollito con un'emulsione di uova, quindi con una maionese in più un riso al salto ma per regionalità, per terroir, territorio invece di farlo classico allo zafferano come alla milanese l'ho preparato utilizzando il tartufo nero di Aqualagna Il format Un Sindaco in Famiglia lanciato da Matteo Ricci negli scorsi anni ora esce dalle case pesaresi per arrivare nelle case di tutta Italia partirà infatti giovedì 20 ottobre dalla città di Matera Pane e Politica, un sindaco a cena dalle famiglie italiane Si tratta di un viaggio nelle province italiane da parte di Ricci nelle sue vesti di coordinatore nazionale dei sindaci del PD Per il sindaco di Pesaro vuole essere un tour per tornare a parlare agli elettori arrabbiati e delusi e per far ripartire il centro-sinistra dalla politica dell'ascolto ai cittadini Lunedì 24 ottobre parte la nuova raccolta differenziata nel centro storico di Pesaro attraverso le isole ecologiche con cassonetti intelligenti per supportare i cittadini in Marche Multiservizi ha previsto degli Infopoint in Piazza del Popolo dove ispettori ambientali saranno a disposizione per spiegare i funzionamenti e chiarire dubbi della nuova procedura Infopoint che saranno presenti in piazza da lunedì 24 a sabato 29 ottobre e da giovedì 3 a sabato 5 novembre con orario dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 19 Domenica 23 ottobre Rossini TV sarà presente ad Acqualagna in occasione della 57esima Fiera del Tartufo Bianco Pregiato un grande appuntamento con grandi ospiti fra questi lo chef da due stelle Michelin Gennaro Esposito al quale l'organizzazione della fiera conferirà il premio Ruscella d'Oro 2022 cerimonia di consegna che avverrà alle 18 preceduta dal cooking show di uno degli chef italiani più innovativi Continuano le celebrazioni del 600esimo anniversario del Duca Federico da Montefeltro celebrazioni che coinvolgono anche Cagli attraverso una mostra che sarà visitabile fino al 30 novembre mostra che potrete approfondire nello speciale che Rossini TV manderà in onda questo giovedì 20 ottobre alle 21.20 intanto però vi diamo una piccola anticipazione Anche Cagli si ritaglia il suo spazio d'onore all'interno delle celebrazioni del 600esimo anniversario della nascita del Duca Federico da Montefeltro nella chiesa di San Domenico è stata inaugurata sabato e sarà visitabile fino al 30 novembre la mostra Cagli e Federico tra documenti d'archivio e dipinti di Giovanni Santi una mostra che testimonia la figura di Giovanni Santi e lo stretto legame col Duca in una esposizione curata da Massimo Bonifazi e Marco Droghini promossa dal Comune e dall'itinerario della bellezza di Confcommercio Marche Nord Federico e Cagli Cagli è la terza città del Ducato si pone tra Gubbio e Urbino Federico nasce a Gubbio e diventa ovviamente Duca di Urbino e quindi Cagli è al centro Federico aveva la sua residenza a Cagli il palazzo municipale era la residenza di Federico a Cagli e inviò tutti i suoi artisti tutti i suoi artisti i suoi artisti più rappresentativi vale a dire Giovanni Santi che oggi celebriamo e anche Francesco Di Giorgio Martini che ha lasciato un tangibile segno nella Rocca e nel Torrione di Cagli li invia Cagli perché per Federico Cagli è un fulcro per la rinascita Giovanni Santi è stato uno dei più grandi esponenti della corte feltresca un pittore di corte appunto ha scritto una biografia di Federico a Montefeltro e all'interno della chiesa di San Domenico noi possiamo godere delle sue opere in particolare di tre opere il monumento dedicato a Battista Tiranni la cappella Tiranni che può essere annoverata tra i capolavori se non il capolavoro di Giovanni Santi e la testa di San Sebastiano tornata all'interno della chiesa di San Domenico dopo i due secoli da quando è stata strappata dall'architetto Michelangelo Boni all'inizio dell'Ottocento e qui portata poi nella collezione privata dell'architetto Boni nel 1830 circa Focus della mostra l'esposizione di un corpo di epistole conservato a Cagli che testimonia i legami fra il duca Federico e la chiesa e la comunità cagliese Sono lettere molto importanti fanno parte di un corpus di oltre 150 lettere che costudisce gelosamente l'archivio capitolare di Cagli un unicum perché un archivio così ben fornito così ben nutrito per quanto esistono ecco c'è delle lacune rappresentano un unicum nel tessuto marchigiano degli archivi ecclesiastici e in questo corpus di lettere si mostrano a chiari lettere gli addentellati i forti legami che la corte urbinate aveva con il vescovo e quindi la comunità religiosa di Cedi Cagli La scelta della sede dove si fa questa mostra che è la chiesa di San Domenico è il luogo dove c'è il capolavoro assoluto di Giovanni Santi padre di Raffaello che è la Cappella Tiranni qui alle mie spalle e quindi mettiamo anche in mostra in evidenza una mattonella una mattonella che è stata asportata dai muri di questa chiesa che era coperta da calce che era stata messa nel periodo della peste per disinfettare gli ambienti ma in realtà questa chiesa probabilmente era tutta affrescata e nel 1800 un architetto di Cagli ritrovò sotto questa calce una testa di San Sebastiano dipinta proprio da Giovanni Santi quindi è un Giovanni Santi ritrovato che facciamo vedere in occasione di questa mostra davanti al capolavoro assoluto del padre di Raffaello sono felice di aver ospitato qui questa mostra in questa bellissima chiesa anche la nostra chiesa di San Domenico partendo dalla Cappella Tiranni dei Giovanni Santi Babbo di Raffaello attraverso poi degli scritti insomma ripercorrendo anche la rocca martiniana quindi Francesco di Giorgio Martini personaggi legati appunto a Federico e che certificano quindi l'importanza in quel periodo di Cagli ma non voglio parlare solo di Cagli veramente voglio parlare di tutto un territorio che deve essere unito nel valorizzare questo splendido periodo insomma di cui appunto siamo stati protagonisti nel passato siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma rimanete collegati su canale 80 Rossini TV perché questa sera in prima serata alle 21.20 parte il primo speciale dedicato al festival d'arte drammatica GAD quindi l'appuntamento è alle 21.20 subito dopo vedrete la commedia Kraken del teatro degli Oscuri e poi domani vi ricordiamo l'appuntamento con la Rassegna Stampa vi aspetto alle 7.20 in diretta sul canale 80 e sulla nostra diretta Facebook e poi vi ricordiamo che questa settimana è la settimana della ripartenza della terza stagione di Insieme a Canestro il nostro focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro in diretta potrete partecipare potrete vincere biglietti per le partite commentando e scrivendoci al numero che ormai conoscete 370-366-7210 e prima di chiudere questa edizione vi lascio con un nuovo trailer dedicato al GAD trailer di uno spettacolo che è in concorso in questa edizione che potrete votare sulla pagina Facebook Amici della Prosa il più votato riceverà il premio Rossini TV che sarà segnato il 30 ottobre in occasione della cerimonia conclusiva del festival grazie e buona serata bastardo tu sei entrato nello stabile con ben due minuti di atto questo significa che dovrai finire il lavoro per lunedì il che vuol dire farlo nel weekend schiavista tu sei il mio schiavo io ti ho in punga e non fare sparate pensando di avere il libero arbitrio perché qui non ce l'hai pazza strega ninfomane ehi Bruce scommetto che non la scoglio un gamberetto lassù dai si ti smetti lassù oh mia città da morire ma che fai? oh scusa e sono una che spruzza riscido schifoso e cocainomani che vuoi che vuoi che vuoi bragghi guarda ehi senti sono cintura gialla stamontana i bambini sono cintura gialla e ho cominciato da poco Ma sono già un fattuto a chi me? E' odio che non mi frega niente di questa baracca, per me è soltanto un banco, ma... Dobbiamo uccidere i nostri capi! Siete veramente tre coglioni! Ci serve un professionista! Io sarò il vostro consulente in omicidio, seguite la prego! Si vuole cervello! Scoprite dove vi... Guardate che bei molari che ha la dentista! Le sue abitudini, i suoi hobby! Facciamo il trenino, porca! Cosa mangia? Cosa gli piace e con chi... Mi tondisci con questo cesso, torna! Non state facendo il cazzare! Ma che cazzo è successo? La storia è successo! Grazie a tutti